ciao bella raga eccoci qui ancora ragazzi per voi oggi ho un'altra novità molto speciale ragazzi allora loro sono in vacanza poi lavorano vacanza lavoro vacanza lavoro vacanza stiamo parlando ancora di andrea zenna e rosalinda cannavo questi due pincincini non stanno mai fermo uno parli del lavoro e l'altro si digota la vacanza andiamo a vedere questo video ragazzi con voi fantastica giornata sono in vacanza a rimini e ho portato con me anche trattamenti di fgm 04 per essere costante in particolar modo vi sto mostrando i pantaloncini cosmetici imbevuti di principi attivi io sto facendo quello grande che incontro appunto le gambe affaticate e gonfie quindi combatte la ritenzione idrica esiste anche quello slim contro le adiposità localizzate e quello invece salino contro la cellulite come vi ho mostrato sono facilissimi da fare occupano pochissimo spazio infatti li porto anche in vacanza vi consiglio di prendere il kit convenienza perché all'interno ne trovate 10 così siete costanti ma ne pagate solamente 7 tra l'altro in questo momento c'è ancora la 3x2 quindi acquisterete 3 prodotti ma ne pagherete solamente 2 e inoltre con il codice sconto extra 20 che vi metto qua giù un ulteriore 20 per cento di sconto è come se non bastasse anche un regalo con una spesa minima di 110 euro il regalo con leggings a frida approfittate vi lascio il link qua giù vendiamo a noi eccoci qui ragazzi avete visto rosalinda con il suo gadget a portato di mano rosalinda goditi la vacanza e il lavoro si pensa dopo non volevamo vederti in costume da bagno come prima al mare che ti porta anche kino un pochino abbiamo visto kino attuettato una cagnolina comunque ragazzi bomba secondo me kino alla fidanzata nascosta uno scoop molto speciale per kino bravo complimenti ragazzi comunque ragazzi se questo video vi piace mettete un bel like e scrivete un commento sotto questo video qua noi ci vediamo al prossimo video da cino mancini è tutto ciao bella rai